Ciao a tutti, sono Francesco Ferreri di Total Guitar Academy e vi presento un nuovo esercizio di warm-up. Il warm-up si intende, come abbiamo già detto nei video precedenti, che è un riscaldamento prima di una sessione di lavoro, di studio, quindi di performance in sala prova col proprio gruppo o anche di un concerto live. In questo caso attiveremo un'articolazione dove abbiamo indice annulare e medio e mignolo, quindi non è più sequenziale. Lavoreremo con tutte e quattro le dita della mano sinistra e la plettrata sarà sempre alternata. E' importante che tutte e quattro le dita siano allineate sopra ogni tasto, che il pollice sia dietro alla tastiera, diciamo quasi al centro del manico, in modo che questo vi permetterà di allargare bene la mano. Buon lavoro, ci vediamo al prossimo video. Buon lavoro, ci vediamo al prossimo video.